Musica 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 Rosciano Vinicius Rotor Delara Piper Radice E Gerardo Stefani Allenatrice Tia Veselovic Musica 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 Gianna Falki con le quattro Cinthia Maria Gattini con le due cinque Lalla Alacon con le otto Carmela Gattini con le due nove Sofia Pellarelli con le dieci Maria Amelia Meletti con le numero undici Ilegia Zornanetto con le numero 14 Melina Simena Cazzi con le numero undici Ilegia Zornanetto con le numero undici con le numero undici Ilegia Zornanetto con le numero undici Con Ibargallo e in fine con il numero 48 Alessina Liu all'amatore Dino Garofio anche tra le sue nuove di Pisa Lattro e la Cisci all'is code à la Cisci a la Cisci wai dino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti